gentili telespettatori buona giornata il leader della lega matteo salvini torna a parlare di reddito di cittadinanza e dice l'ho detto a draghi va bene il taglio delle tasse ma bisogna essere pragmatici ma che cosa vuol dire essere pragmatici che cos'è chi è una persona pragmatica quando si definisce qualcuno pragmatico si vuole indicare una persona che al posto di pensare preferisce fare ovvero agire perché possiede una concretezza e un materialismo che è il meno surreale possibile per essere più precisi e usare altre parole sono persone che hanno obiettivi e idee molto chiare obiettivi concreti fare pensare poco e fare di più pensare il giusto e poi fare perché matteo salvini dice che bisogna essere pragmatici che va bene l'abbassamento delle tasse ma bisogna essere pragmatici dice l'ho detto a draghi sapete che lui si vanta di avere questo rapporto vicino a draghi va bene dice il taglio delle tasse ma bisogna essere pragmatici c'è banalmente molta gente che a dicembre terrà con difficoltà il riscandamento acceso occorre essere molto concreti ecco i 9 miliardi per il reddito di cittadinanza in tempi come questi mi sembrano una spesa difficilmente sostenibile e affrontabile da tutti i punti di vista dice matteo salvini su facebook sì il fatto che molti non abbiano i soldi per accendere il riscaldamento è reale però e il reddito di cittadinanza va molto spesso a persone che non ne hanno neanche diritto certo su questo aspetto a ragione salvini si stanno aumentando i soldi al reddito di cittadinanza senza mettere a punto un meccanismo che possa impedire le truffe possa impedire che quelli che non hanno i requisiti lo ricevano anzi aumenta la platea e aumentano i soldi se si riuscisse a cancellarlo e rifare un altro reddito chiamato in un altro modo che che venga poi indirizzato solo a persone realmente bisognose l'uomo di 35 anni che è a casa che dice non c'è lavoro cosa devo fare non c'è e come facevi prima come facevi prima prima era prima adesso il rischio è che con il reddito le persone si siedano ma questo è normale se per tre anni ti arrivano 5 6 700 euro al mese e tu prima ne guadagnavi mille lavorando dieci ore al giorno di più me li faccio bastare alla fine dopo tre anni che ricevi questo reddito realmente voi credete che quella persona si alzi la mattina per andare a cercare lavoro che accenda il computer per cercare offerte di lavoro molti si nascondono dietro il ma tanto il lavoro non c'è ma tu l'hai cercato si l'ho cercato ma non c'è non c'è lo stato mi deve dare i soldi cosa fa mi lascia in mezzo a una strada se il lavoro non c'è non c'è c'è stato il c'è il covid il lavoro non c'è quelle stesse persone che prima avevano grandi difficoltà trovare lavoro adesso si nascondono dietro tanto il lavoro non c'è io conosco una persona che ha reddito una famiglia intera lui dice no ma mi hanno offerto un lavoro ma con la benzina per arrivare lì e tutto e tutte quelle ore al giorno più la benzina alla fine se se io ci tolgo il costo della benzina il costo per mangiare fuori l'usura della macchina delle ruote così alla fine non mi conviene no dice beh dice io al posto che 700 euro là me ne danno milledue però tra benzina e usura della macchina me ne vanno via 400 allora sto a casa e con 700 è uguale anzi evito di stressarmi e di far fatica questo è questo è le persone dopo un po' dicono vabbè dai lavoro non c'è lo sanno tutti le persone si siedono e naturalmente quello che dice salvini in questo caso è corretto bisognerebbe rifarlo ma rifarlo vorrebbe dire cancellarlo e rifarlo tutti insieme quelli del governo e questo vorrebbe dire togliere la paternità ai 5 stelle e togliergli il voto di scambio che è che si garantiscono adesso pertanto è impossibile voi realmente pensate che draghi non sarebbe in grado di rifare un reddito di cittadinanza che funziona ma certo che è in grado ci mancherebbe altro ma non lo può fare per una convenienza un'opportunità politica se no i grillini non lo mandano né al quirinale e magari gli fanno cadere pure il governo Matteo Salvini poi aggiunge sul tema della giustizia dice gli unici che non si sono manifestati sui referendum cioè i 5 stelle ma è un'assenza di cui possiamo fare a meno e possiamo non far conto sulla giustizia dice stato un gran bel passo ma dobbiamo andare fino in fondo evitiamo le fregature del passato vediamo di essere vigili e attenti la cosa bella dei quesiti proposti dagli amici radicali è che ai gazebo sono venute persone di ogni estrazione sociale sono venuti tutti tranne i 5 stelle non sono referendum contro qualcuno quello che dice Salvini è bisogna stare attenti perché la cassazione ha approvato i referendum ma i referendum poi bisogna andare a votarli e questo è il problema bisogna andare a votarli e sul governo poi spiega l'italia in questo momento ha bisogno di visione di coraggio di ragionare a medio lungo termine è chiaro invece che la stragrande maggioranza dei parlamentari attualmente ha come unico orizzonte temporale il proprio collegio a marzo 2023 non puoi pretendere che ci siano orizzonti più lontani ma su una cosa devo dirvi Salvini comunque si lamenta dell'aumento dei soldi finanziati sul reddito di cittadinanza però lui non ha detto niente i suoi ministri su suo ordine non hanno detto niente in consiglio dei ministri la il bilancio la finanziaria per il prossimo anno è passata tra l'ovazione e gli applausi dei ministri che osannavano draghi il condottiero tanto il capo politico della lega va a dichiarare ai giornali che secondo lui il reddito di cittadinanza così non funziona però in governo dove lui partecipa non ha detto assolutamente nulla non si è opposto voi direte beh ma se si oppone cosa cambia tanto la legge passa lo stesso sì però tu hai il dovere di opporti se la pensi in maniera differente se no è solo opportunismo ipocrisia arrivederci a tutti e grazie